Vertigine deriva dal verbo vertere, girare, però i disturbi dell'equilibrio possono essere molto vari. Per chi da casa ci ascolta vorrei che rimanesse questo concetto. Tutte le vertigini che non sono dell'orecchio, quindi vertigini da altre cause, sono soggettive, cioè il paziente si sente instabile, tende a cadere, è come se barcollasse alla testa pesante, ma gli oggetti sono fermi intorno. Mentre tutte le vertigini a partenza dall'orecchio sono vertigini oggettive, cioè uno vede le cose girare intorno mentre è lui che sta fermo, oltre ai sintomi dell'orecchio che sono abbassamento di udito, pressione, ovattamento. Tra le malattie dell'orecchio possiamo ricordarne quattro, che poi alla fine sono tre entità. Una è la cupololitiasi, un'altra è la labirintite e la nevrite vestibolare e una quarta è la sindrome di Meniere. Guardate, la labirintite è un fatto acuto infiammatorio. Quindi a volte ha nella storia anche un'intossicazione alimentare, ad esempio, oppure un'infezione, per cui si cura con la terapia anti-infettiva, quindi antibiotica e anti-infiammatoria. La sindrome di Meniere è di gran lunga la peggiore sindrome dell'equilibrio che noi abbiamo nel nostro corpo. Come si manifesta? Si manifesta con una pressione nell'orecchio, a volte in tutte e due, perché non nel 90% dei casi è monolaterale, non nel 10% dei casi è bilaterale. Una pressione nell'orecchio. Poi acufeni, abbassamento di udito e una vertigine terribile, come se una mano enorme ci prendesse e ci scagliasse per terra, con nausea e vomito. E la cosa drammatica è che questa vertigine si ripresenta e si ripresenta per tutta la vita, e in maniera improvvisa. A volte è annunciata dai sintomi di acufene, pressione nell'orecchio, acufattamento, altre volte improvvisamente con cadute per terra. E può durare per ore e ore e i giorni dopo ci lascia instabile. Per cui ho creato una tecnica che si chiama DASD, cioè decompressione del dotto e del sacco endolinfatico. Con questa decompressione il dotto riprende a funzionare, con grandi risultati. Cioè il 96% delle persone riprendono una vita molto migliore.